politica. Si è concluso il percorso e parliamo di regionali che ha portato azione alla sua scelta di sostenere Luciano D'Amico come prossimo governatore dell'Abruzzo, con l'assemblea che ha ufficializzato il sostegno al candidato. Il percorso, si legge in una nota, è riniziato già lunedì scorso quando il direttivo organo competente alla scelta finale ha deciso di incontrare D'Amico per un confronto sul programma. Successivamente a seguito della convergenza sui temi la decisione di sostenere il candidato è stata comunicata prima al segretario nazionale Carlo Calenda nella giornata di giovedì e ieri all'intera assemblea e a tutti gli abruzzesi. Azione è stato ribadito contribuirà all'elezione di Luciano D'Amico rappresentando, sottolinea Giulio Sottanelli, deputato e segretario regionale del partito, i valori riformisti popolari e liberali degli abruzzesi, dando finalmente rappresentanza a tutti quei cittadini che vogliano veramente una regione attrattiva, competente ed efficace. Durante l'incontro è stato particolarmente rilevante il gesto simbolico di Carlo Costantini, il quale ha passato il testimone a Luciano D'Amico affermando di essere convinto che le proposte di azione che aveva accettato dice di portare avanti in queste elezioni troveranno una corretta sintesi nel programma del nostro candidato presidente che sosterrò convintamente nella campagna elettorale. L'assemblea si è conclusa tra entusiasmo e l'acclamazione dei partecipanti con il candidato che ha espresso la sua felicità per la nascita del patto per l'Abruzzo, un accordo programmatico di buon governo tra coalizione del centro-sinistra e azione è stato ribadito.